Ciao a tutti, e benvenuti a MTV! In questo video vi avvicinare la mia routine per le idee che vogliamo fare o fare male. Buongiorno! Buongiorno! E mi chiedevi aiutare! Pesce d'Aprile! Ciao a tutti e bentornati su MTV! Per quelli di voi che ci erano già preoccupati state tranquilli, questo video non sarà indanese. Visto che molti di voi mi hanno chiesto di realizzare una morning routine aggiornata nel video di oggi vi mostrerò la mia morning routine ma una morning routine un po' particolare perché quella per i giorni in cui dormire è davvero troppo bello sto facendo magari un sogno meraviglioso sto sognando pizza o Harry Styles o unicorni che sputano arcobalini e davvero non ho voglia di alzarmi e quindi di fatto finisco per svegliarmi dopo in ritardo per la scuola. Questo è ciò che faccio quando mi sveglio in ritardo e devo prepararmi più velocemente possibile. Spero che possiate trovare questo video interessante o divertente o almeno ricavarne qualche consiglio utile per risparmiare un po' di tempo in alcuni dei preparativi e prepararvi più in fretta possibile. Buona visione! Buongiorno Emma, sono le sei e mezza è ora di alzarsi per andare a scuola. Sì, lo so, tu stai dormendo così bene le coperte sono così calde ed è veramente difficile alzarsi però forza, coraggio! Dai, su, forza, svegliati! Sì, però magari... Ancora dieci minuti! solo un altro minutino Sì, è vero! Sì, è vero! Cominciamo con la mia Morning teen! Dopo essermi in ripresa dallo spavento iniziale, la prima cosa che faccio è ovviamente andare in bagno, fare i miei bisognini e sciacquarmi il viso. Per quanto riguarda la colazione, cerco veramente di non saltarla mai, anche in condizioni di ritardo estremo, e cerco semplicemente di ottimizzare i tempi preparando qualcosa che so che riuscirò a cucinare e mangiare in poco tempo. Infatti in questi casi di solito tosso semplicemente due fette di pane integrale e le cospargo di marmellata di albicocche e miele di acacia. Per quanto riguarda la frutta, cerco sempre di mangiarne il più possibile, sia perché è molto sana ovviamente, ma anche perché davvero mi piace tantissimo. Quindi quando sono di fretta punto semplicemente a una banana o in questo caso un kiwi, che posso semplicemente tagliare e gustare subito. E poi porto il piatto alla mia scrivania, anche se siamo sinceri, quando il ritardo è davvero grave, la fetta di pane mi ritrovo a mangiarla scendendo le scale di casa. Se invece ho quei 5 o 10 minuti di tempo per fare colazione, cerco ovviamente di essere il più veloce possibile, ma allo stesso tempo di gustarmela comunque mangiandola con relativa calma alla mia scrivania. A questo punto, dopo aver sparecchiato, mi dirigo nuovamente verso il bagno per spazzolarmi i dentini, o per meglio dire le zanne. A questo punto comincio a truccarmi, ma visto che il tempo stringe, applico semplicemente un po' di correttore, fondotinta, un po' di cipria, un po' di bronzer e blush. E infine concludo questo trucco veloce, semplice, naturale, con un po' di matita per sopracciglia, mascara e un balsamo labbra colorato. A questo punto parto alla ricerca forse nata di qualcosa da mettermi. Quando ho poco tempo, infatti, vado completamente nel panico e non riesco a trovare assolutamente niente da mettermi. Mi sembra che niente vada bene. Quindi, se voglio evitare di creare abbinamenti stranissimi, non riuscire a trovare assolutamente niente da mettermi e andare nel panico totale, finendo con avere una crisi di nervi vera e propria, La mia soluzione è quella di scegliere, prima dell'inizio della settimana, l'outfit che indosserò ogni singolo giorno, utilizzando questi cartellini colorati per distinguerli, oppure semplicemente scegliere cosa indossare la sera prima. Se questo metodo per voi non funziona, una cosa utile è semplicemente avere nel proprio guardaroba, almeno semplicemente un paio di magliette bianche, grigie o nere, semplicissime, che possano essere abbinate con qualsiasi cosa, in modo da avere già un'idea di cosa possiamo indossare in caso di emergenza e evitare così un inutile attacco di panico. E invece, per evitare di ritrovarmi a dover fare lo zaino la mattina, quando sono di fretta, l'unica cosa da fare è semplicemente sforzarsi al massimo di ricordarsi di fare lo zaino la sera prima, oppure appena siamo tornati da scuola. A questo punto mi preparo semplicemente per uscire indossando la giacca e afferro il volo una qualsiasi merendina, come una barretta alla frutta o ai cereali, per essere sicura di avere qualcosa da mangiare durante la giornata e non ritrovarmi a mangiare cibo spazzatura in seguito a un improvviso attacco di fame. A questo punto, come una scheggia, corro fuori di casa. Ma, se sono stata brava, sono comunque miracolosamente riuscita ad arrivare in orario. Ah, alleluia! E per chi dovesse essere interessato, questo è l'outfit che ho deciso di indossare oggi. Grazie a tutti per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e cosa fate voi per prepararvi più in fretta la mattina quando siete in ritardo. Spero che avrete una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video! S'sbè! Come molti vorrei venire anche al palo in ebbi più ero un po' di te. Quindi... Eccomi qua! Eccomi qua! Non so se sia molto naturale. Alla